Brutta notizia per il programma di Amici e non solo, è venuta a mancare uno storico collaboratore della conduttrice di Maria De Filippi, Piero Sonaglia. Piero, assistente di vari programmi, era presente anche durante l'ultima registrazione di Amici, ovvero la terza puntata del serale, avvenuta mercoledì 30 in onda questa sera su Canale 5. A darne la triste notizia è stato Roberto Cenci, regista Mediaset, attraverso un messaggio pubblicato pochi minuti fa sui propri canali social. Tanti messaggi di cordoglio, soprattutto all'interno della squadra di Amici e tra i tantissimi fan del programma. Anche Maria ha voluto ricordare il collega pubblicando un messaggio di cordoglio su profili social, uno in particolare Amici.